Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati alla Rassegna Stampa, Occhio ai Giornali che come tutte le mattine vi accompagna, magari mentre state bevendo un caffè caldo oppure state pranzando a l'una e mezzo del giorno. Insomma, qualunque cosa stiate facendo, adesso per i prossimi minuti, questa mattina faremo presto perché abbiamo solo il resto del Carlino, il messaggero e il Corriere Adriatico hanno problemi nel PDF, non c'è la versione digitale, quindi viene voglia di tornare alla vecchia carta, ma comunque questo è un altro discorso. Dicevo, faremo presto, i prossimi minuti li dedicheremo al Santo del Giorno, per esempio, eccolo qua, oggi è la presentazione del Signore, la presentazione del Signore di Gesù al Tempio è una festa di antica tradizione, ricorda che 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria portò il suo bambino al Tempio per riscattarlo secondo la prescrizione della legge di Mosè. Il sole è sorto alle 7.24 e tramonterà alle 17.20. Allora, prima di guardare le previsioni del tempo, andiamo a vedere un attimo la temperatura. Prima vi dico soltanto che abbiamo inserito e stiamo inserendo in questi giorni alcune novità all'interno del nostro sito internet occhianotizia.it. Intanto vedete i titoli, in apertura la notizia da cartoceto, dove sono stati arrestati due 25 anni per violenza e resistenza pubblico ufficiale. La novità, se forse no, dallo schermo qui non riusciamo a vederla, entriamo dentro nella pagina del sito, ecco qui l'articolo, in fondo abbiamo inserito, vedete anche i commenti, i commenti che voi potete lasciare sul sito e che andranno pubblicati direttamente sulla pagina Facebook. E in questo caso, per esempio, c'è la versione, ecco perché è importante, la versione di colui che gestisce probabilmente il pub dove è avvenuto questo fatto di cronaca. e potete leggere la sua versione entrando nel nostro sito internet. Infatti le prime righe sono, volevo chiarire la vicenda in quanto le cose sono andate molto diversamente da come vengono raccontate in questo articolo privo di fondamenta. Le forze dell'ordine sono state chiamate, eccetera, eccetera. Poi l'altra novità la vedete invece sotto, sono i social network, abbiamo inserito anche la possibilità di condividere con WhatsApp piuttosto che Telegram, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo facilitato un po' le cose. Il tempo di oggi, oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso, con nuvole basse stratificate in particolare nel settore centro-settentrionale, avremo temperature stazionari, un lieve diminuzione nei valori minimi, venti sud-occidentali. Domani cambia il tempo, eh. Attenzione, finita la pacchia, la merla se n'è andata, ma insomma, arriva il freddo, boh, non lo so, dicono di sì. Dovrebbe tornare comunque aria un po' più rigida, più fredda e le piogge. Vedete sul settore settentrionale della regione, avremo dalla serata rovescio temporali sparsi, localmente anche intensi, con il limite delle nevicate attorno ai 700 metri. Le temperature stazionari, un lieve aumento nei valori minimi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, invece, giovedì è giovedì grasso, giovedì avremo un cielo parzialmente nuvoloso, poi nel settore centro-meridionale vedete la pioggia, la neve sui sibillini, le nevicate intorno ai 600 metri, le temperature chiaramente sono in diminuzione. Il fine settimana tempo prevalentemente stabile e probabile peggioramento, invece, per l'inizio della prossima settimana. Dunque il carnevale, l'ultima giornata di carnevale, dovrebbe, dal punto di vista meteorologico, naturalmente essere salva. Allora, il resto del Carlino. Cominciamo dalla pagina di Fano. Come cambia la nostra città? Come cambia la città di Fano? Beh, intanto, se andiamo in piazzale Amendola, siamo a Lido di Fano e ci fate un giro, vi accorgerete che c'è un vuoto, c'è più luce, non so come dire, c'è un vuoto. Il vuoto è causato da quest'edificio che è stato abbattuto, che non c'è più, è lì, vecchio, era lì, vecchio, fatiscente da tanto tempo, adesso è stato abbattuto. E che cosa verrà costruito? Verrà costruito un condominio di lusso. Siamo davanti all'hotel Elisabeth II, ok? Lì vedete c'è la ferrovia, lì dietro, la gru. Siamo davanti all'hotel Elisabeth II, davanti all'oratatore del Lido, ok? Ecco, lì verrà costruito questo condominio di lusso. Verrà sistemata anche l'area verde. Le ruspe sono già in azione. La foto dice molto, lo dice tutto. E secondo il progettista, l'architetto Frausini, dice Gli appartamenti serviranno anche per la stagione estiva. La cronaca da Bellocchi, rubati attrezzi per 15.000 euro alla Nefa, poi la fuga con il furgone della ditta. Sotto invece novità per i bimbi in cerca d'asilo. Le domande si possono fare su internet, online. Per la prima volta le iscrizioni si potranno fare solo per via telematica. L'assessore mascherindice, la maschera da compilare, cioè quella che si apre sul sito internet, è estremamente semplice, quindi non dovrebbe causare difficoltà. Questa è la pagina di Fano. Poi dicevamo da Cartoceto, da Lucrezia, di questa notte da paura, al pub, così scrive il resto del Carlino, Rissal Pub Old Jack di Lucrezia, processo per direttissima il 16 febbraio per questi due 25 anni di Cartoceto, ubriachi, che hanno aggredito i carabinieri e ne hanno feriti addirittura quattro. Uno si denuda, l'altro picchia. Sono stati arrestati e questi sono anche evasi. Questo è l'articolo sul giornale, sul quotidiano Il resto del Carlino. Poi sulla questione dell'ospedale, Chiaruccia interviene questa mattina un ex assessore, Davide Rossi, ex assessore provinciale. Chiaruccia dice è una battaglia persa e non si butta via invece Davide Rossi sulla sanità privata. La sanità privata non è un tabù, dice, quindi perché non parlarne? Davide Rossi si rivolge al sindaco Massimo Seri, non hai forza contro il Partito Democratico. Il sindaco può rifiutare la logica dell'ospedale unico e guidare dunque la protesta. L'incidente del mattina di Natale, dove sono morte due persone all'uscita di Rimini Nord. Ieri è stato sentito dal PM Giovagnoli, il cameriere fanese che ha con la sua auto investito quella della famigliola che appunto è stata distrutta la mattina di Natale, è morta una donna con il figlio di dieci mesi, il cameriere ora ammette, sì, ho preso cocaina ma non il giorno di Natale, perché il giorno di Natale lo volevo passare con mio figlio, e quindi non l'ho preso, ho solo assunto degli antidepressivi. Perché antidepressivi? Perché racconta sempre lui al pubblico ministero da quando è morta mia madre io faccio uso di antidepressivi perché la mia vita è cambiata, la mia vita chiaramente è cambiata non solo dalla morte della mamma come dice anche lui, la mia vita è distrutta da quel 25 dicembre, così ha concluso la sua ora e mezza di deposizione lì davanti al giudice. Varani, Luca Varani, Luca Varani stiamo parlando del caso dell'acido, Lucia Nibali, l'avvocatessa pesarese che è stata ferita con l'acido da Luca Varani, Luca Varani lo vedete nella fotografia mentre viene portato in tribunale, e Varani ha rilasciato un'intervista, un'intervista in televisione a Rai 3, un'intervista che verrà probabilmente mandata in onda prossimamente, a meno che non cambierà qualche cosa. Ebbene, il procuratore Manfredi Palumbo di Pesaro parla di una scelta scorretta, quella di fare questa intervista, di mandarla in onda, soprattutto prima la pronuncia della Corte di Cassazione che deve ancora decidere. Dunque, la TV di Stato che va appunto da Varani, la troupe di storie maledette, bussa e ottiene di entrare nel carcere di Teramo per realizzare questa lunga intervista su di lui, sulla sua storia con Lucia Nibali e su quello che è stato fatto con l'acido all'avvocatessa Urbinate. Solo che la domanda principale che si pone alla magistratura pesarese riguarda appunto il via libera a questa intervista in cella. Chi l'ha autorizzata? Adesso si domandano dalla procura di Pesaro. L'ultima pagina della nostra rassegna stampa riguarda invece, sempre dal resto del Carlino, la sentenza sul caso del calcio scommesse dove c'è anche coinvolto Ridolfi, Giacomo Ridolfi con la maglia in questa foto bianco-rossa e la maglia sopra invece nera, qua sempre della Vissa. Venne arrestato nel maggio scorso, poco dopo andò ai domiciliari, è un ragazzo molto conosciuto a Pesaro, Ridolfi ha otto mesi e una maximulta, ma tornerò, dice lui, più forte di prima, caduta l'accusa di illecito sportivo, sanzionata solo l'omessa denuncia. Continuerò ad allenarmi con la Vissa, pronto per ottenere, scusate, pronto per ottobre, ora sarò il primo tifoso, chiaramente, della sua squadra. Ho pagato la mia spensieratezza, ma questa brutta storia, dice ancora, mi ha allontanato da quel mondo. La rassegna stampa dunque finisce qui, come dicevo è breve, perché non ci sono le versioni in PDF del messaggero e del Corriere Adriatico, queste sono le notizie, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona giornata, ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia, arrivederci.